Musica Musica Quindi allora Questa qua è sempre la solita squadra Ho avuto una botta di fortuna tremenda Perché avevo la forma fisica per tutta la squadra Quindi come potete ben vedere Ora hanno tutti 99 E adesso mentre vado a cercare un nuovo sfidante O meglio forse l'ultimo sfidante di questa stagione Vi spiego un attimo che cosa ho intenzione Di fare nella seconda Forse ragazzi non vi porterò tutte le partite Questo perché voi dovete sapere Che io non dico che faccio sforzo Però adesso anche che per la prima settimana di vacanze Infatti ci sono le vacanze Ieri ho forse un po' più di tempo Volevo un attimo giocarsi un po' di più Quindi dato che non voglio registrare tutte le partite Perché poi magari mi restano un macello di video indietro Registrerò sicuramente tutti i pack opening Perché io appunto ad avere una squadra veramente forte Farò veramente una marea di pack opening Appunto con questo team Con questo account Della serie andiamo a Rio Quindi vi farò sicuramente vedere i pack opening E poi forse magari qualche semifinale Dalle semifinali in poi Comunque si vedrà Fatemi sapere voi cosa ne pensate E cosa preferireste vedere Detto questo Ci sentiamo una volta trovato lo sfidante Cazzo Finale Del mondiale Ottavi 26-1 Quattro Quarti 5-0 Semifinali 4-1 Finale Troviamo uno Cazzo in 66 Di intesa E sta cosa ci può aiutare assai Non capisco perché faccio giocare un ATT Come in COC Ho capito che Silva Su FIFA 14 È COC Ma sui mondiali no E poi c'è un CDC E un DC che stanno alla grande Poi magari se voi lo sapete Rispondete a questa domanda Ma io ora sto giocando contro un altro Che sta giocando in finale Oppure è un normale Che ha cercato una partita Eh rispondete se potete E intanto ne iniziamo L'ha visto Gonzales Gonzales Gonzale Tocco sotto Non va Porca miseria Non è rigore Giusto Bravo arbitro Grande Palla per Ronny Cambio di gioco esemplare Cambio di gioco esemplare Ronaldo Ronaldo con le schiene Scarta uno Scarta anche il secondo Ronaldo Tiro Giro Che tiro bello Fabio con Tvau Con Tvau Pagliari Mado di Inez Mamma mia Suarez Ronny 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 in mezzo È passato È passato La botta Mannanaggia Mannanaggia Nuovo Ragazzi Mi sono scordato di dirvi Una delle cose più importanti Di questo episodio Perché infatti a fine partita Se appunto io riuscirò a vincerla Farò sì È appunto sempre la differenza Tra l'eretica ho fatto Contro l'eretica ho subito E il risultato Non saranno i pacchetti aperti Ma lo moltiplicheremo Per 100.000 E quelli sono i crediti Che io utilizzerò Per fare un mega pack opening A fine video Quindi mettete caso Io vinco 3 a 0 3 per 100.000 Fa 300.000 Voi a fine video Vedrete un pack opening Da 300.000 crediti Mi sembra una stramagicata Adesso però Devo un attimo giocare Finito primo tempo ragazzi 0 a 0 Bella partita 7 dirio 5 in porta Io 2 lui 2 lui In porta Subito Ronaldo Cristiano Ronaldo Ci porta in vantaggio In questa finale Dei mondiali 1 a 0 Dai E tunce tunce Dai e dai Suarez Suarez Giari Martinez Giari Martinez Oh Davide Silva No 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 Bravo Grandissimo intervento E si riparte con Hulk E poi Gonzales Che va Gonzales Gonzales solo contro il portiere Finale della coppa del mondo No ha sbagliato Ma dai Incredibile Gonzales Proprio lui Palla per Ronny Ronaldo va Ronaldo Gli la passano Eccezionale Hulk Hulk Le scarta Ronaldo Incredibile Incredibile Proprio mai con Gonzales Hulk Hulk Si ha volato avvolgente Per Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Driving secco No non è secchissimo Driving non è secchissimo Che però vede Suarez Che di testa Per Hulk Non segna No Incredibile Non l'ha segnato Sento d'odore della coppa La sento La No No Ti prego Non posso fare un film simile No Si Via Ronny No No è E no è Mi arrabbio Mi arrabbio Mi arrabbio Mi arrabbio Mi arrabbio No No Si Si No Si Grande Gonzales Si sente l'odore della coppa E l'arbitro fisca Campione del mondo Campione del mondo Per la quinta volta Grandissimi Finale Bellissima Livelli di emozioni Pari a Benfica Sì 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 No Solo Da zero No 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 se volete avversari sono dei e quindi dai come andiamo bene congratulazioni goditi i tuoi premi 30.000 venditi 3 pacchetti abbiamo vinto i vendiali fifa 2014 scusi buonissimo auspicio per l'italia anche se vi va a pareggiare 1 a 1 con l'ustemburgo comunque queste qua sono le statistiche avanziamo quindi abbiamo vinto 1 a 0 1 meno 0 fa 3 300.000 crediti per aprire altri pacchetti no a parte gli scherzi 100.000 crediti per aprire altri pacchetti tu re tu re ya 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 tu re buono lui si che è forte grande oh to mio dio adesso abbiamo appunto i pacchetti con i crediti che abbiamo vinto dopo aver vinto la finale dei mondiali agguero agguero vogliamo agguero agguero vogliamo agguero dai e agguerito mio sergi agguero agguerito agguero starridge starridge non è bong starridge non è male e ragazzi come potete ben vedere ci siamo passati i crediti quindi adesso andiamo ad aprire 20 pacchetti via ramirez non male in moltesimi di noi mi chiesto di fargli vedere nuove magie mie dato che sapete che sono un mago e guardate un attimo contiamo insieme fino a 3 1 2 3 mio dio sono comparsi gli occhiali e guardate ancora un attimo 1 2 3 no sono sbagliato sono rispariti cioè siamo troppo bravi veramente cavani edinson cavani buono madonna coppia d'attacco suarez cavani bella dato che so che volete vedere un altro trucco guardate questo allora vedete questa carta è un 3 di cuori adesso ci passerò sopra la mano guardate la vostra carta è scomparsa è diventata blu ed è diventata un jack di picche oh mio dio che mago eccola scusate dai trovami qualcuno di buono ma no ma non l'è non Diego Costa da ascoltare Aguero di Mario Messi Fa bella... di mario messi pepe 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 ultimo pacchetto andavamo a cercare giocatori impossibili da trovare ma nell'ultimo pacchetto troviamo un via ma che schifo c'è non ho trovato praticamente nessuno in questi pacchetti no comunque ragazzi ditemi un po voi cosa volete perché alla fine questa serie dell'andiamo a rio è praticamente terminata ditemi voi se volete magari che la reiniziassi quindi che reinizi una seconda stagione oppure se volete altri tanti pack opening però io vi volevo chiedere una cosa volevo concludere appunto questa forse prima stagione di questa nuova serie in bellezza e come se non raggiungendo i 5.000 mi piace quindi mi raccomando lasciate un bel mi piace raggiungiamo un 5.000 mi piace e ditemi un po cosa volete che io faccia nei prossimi video quindi ragazzi detto questo io vi saluto e vi dico potente a palacento dal prossimo video bolla